buongiorno a tutti buongiorno con la puntata di oggi di stampa evangelo puntata che arriva dopo una settimana intera di auto isolamento della famiglia ad inolfi tu non vai a scuola da giovedì mi pare proprio quindi da giovedì fate i conti sono sette giorni interi di auto isolamento della famiglia come sono stati questi sette giorni come li giudichiamo noiosi ecco la cosa più problematica è la noia qui nelle latitudini dove ovviamente il virus non è ancora arrivato in maniera così preponderante oggi vi segnalo visto siamo in una segna stampa se vi capita il corriere della sera quella sera oggi ho fatto due pagine bellissime sugli anziani che muoiono in lombardia per il coronavirus da soli l'ho chiamata una mini spoon river del coronavirus siccome tante volte abbiamo criticato i giornali oggi devo dire quelle due pagine sono veramente molto toccanti e molto belle siamo nel nel giorno dopo l'ennesimo decreto della presidenza del consiglio dei ministri ormai si fa un decreto al giorno non so quando arriveranno ma arriveranno al lockdown proposto dal popolo della famiglia lo ricordo dal 22 febbraio che noi abbiamo ufficializzato al governo la nostra proposta di lockdown assoluto progressivamente ci stiamo arrivando perché d'altronde la logica non la arresti prima o poi si arriva a dover applicare la logica noi abbiamo provato ad avvertire per tempo abbiamo gridato ci siamo fatti sentire in tutte le maniere progressivamente un decreto alla volta stiamo arrivando da quelle parti chi ti saluta clara ti saluta zia laura che la moglie di nicola di teo laura terrana vedi io saluto intanto sabino sabini saluto carla lodi pensa carla ci scrive da forlì sabino sabini invece ci scrive dalla campagna dalle zone di nonno ugo paola perissinotto luca campisi ci scrive dalla romagna dalle zone di nonno fausto invece c'è mariella musso che dice buongiorno caro che dio ci aiuto c'è mario nicola campanella che ci scrive dal cuneese e c'ha la figlia che lavora a radio bianconera la radio della juventus pensa e e anch'io sono stato intervistato ieri da radio bianconera grande momento d'orgoglio salutiamo gabriele marconi che ci scrive da bergamo dal cuore cioè di del del coronavirus dove veramente le condizioni sono di enorme difficoltà vedi alessandro margiotta che ti saluta ciao clara alessandro margiotta è un medico anche lui ci scrive dall'emilia romagna andrew clemens ci guarda dall'australia dove invece in questo momento ci sono non è nonna luise e la sorella maggiore lui livia che la mia primogenita l'andrà a prendere l'andrà a prendere tardi però perché stanotte mi è arrivata la notizia che i voli di rientro sia di livia che di nonna luise livia doveva tornare a fine marzo non a lui sa d'aprile esatto sono stati tutti e due annullati cioè dall'australia non si rientra e non rientrano amore mio perché per il coronavirus non si riesce a rientrare dall'australia vedremo quando tornano vedremo quando sarà autorizzato il ritorno per ora lo do anche come notizia agli amici ai conoscenti ai parenti sia livia che nonna luise non potranno tornare dall'australia e oggi stanotte mi è arrivata la notizia che i loro voti sono stati cancellati ecco arrivata la nonna però ci guarda in diretta vedi ciao nonna salutiamo la nonna in diretta torna prima che puoi vedremo quando potrà ci saluta anche jacopo pioli vedi jacopo pioli invece ci scrive dalla cina la bella notizia sul piano mondiale è che proprio oggi possiamo dirlo perché è stato detto dalla dalle autorità ufficiali cinesi viene considerato superato il momento di picco dalla cina cioè il coronavirus cinese sta arretrando questa è una bellissima notizia per il popolo cinese in particolare per jacopo pioli che sta lì in questa condizione come siamo noi pensa con cinque bambini da due mesi in cina chiuso in casa saluto massimiliano esposito pierpaolo miraglia anche germana biagioni ha una figlia bloccata in america gli stati uniti stanno facendo il blocco dei voli hanno il coronavirus sì e hanno fatto il blocco pensa stanotte dell'nba della del più grande spettacolo sportivo che esiste al mondo che è il campionato di basket piace molto i tuoi amici vero va forte presso va forte a chicco ecco la nonna che ti saluta ciao clara ci manchi oh c'è sta pure tuo figlio è ciao ciao mamma mamma luiz donna dalino bonazza fa notare una cosa che ho notato anch'io sì caro don conte verso la fine ha detto che siamo una comunità di individui che è una parola che fin da voglio la pamba da uno dei libri che forse qualcuno di voi ha letto io ho sempre consigliato problematica perché l'individuo è una monade noi in realtà siamo persone cioè individui con relazioni se non inneschi questo meccanismo se non ti ricordi che individui più relazioni fa persona e le prime relazioni sono quelle della famiglia non capisci come è fatto il mondo io penso che il nostro presidente del consiglio non abbia proprio chiarissimo ciò che può servire davvero a salvare il mondo gabbele marconi ci sottolinea anche il fatto che in australia le buone notizie potrebbero riguardare anche il cardinale pelle dove l'accusa sta sgretolandosi vediamo cosa succederà oggi è prevista la sentenza l'ultima sul cardinale pelle jacopo pioli dalla cina ci fa notare carissimo mai visto quante attività rimangono aperte conte al solito dice tutto e non dice nulla ha perfettamente ragione jacopo pioli che all'esperienza cinese infatti noi dal 22 febbraio lo ricordo diciamo lockdown alla cinese alla cinese perché il lockdown alla cinese prevede qualcosa di chiaro e netto tra cui anche il coprifuoco per esempio dopo il tramonto noi invece facciamo il lockdown all'italiana con un decreto del presidente del consiglio ministri al giorno così può fare una conferenza stampa al giorno fare pure il teaser ieri alle 8 a cominciare a dire stasera ci saranno grandi novità come se fossimo in un programma di barbara d'orso davvero si fa fatica a stare uniti perché tutti ti dicono bisogna stare uniti vicino alle autorità e stare uniti davanti a sto presidente del consiglio è un po un po complicato maio nicola campanella che è un medico dice ma è possibile il covid 19 può causare polmonite interstiziale e lasciamo aperti come servizi essenziali i tabaccai vai a contestare adesso campanella che essendo un medico è un dirigente del popolo della famiglia è una persona razionale di buon senso che posso dirti mario campanella premier per me questa è la soluzione giovanni mazzotta un altro medico del popolo della famiglia scrive questi decreti sono come le grida spagnole a milano all'epoca della peste esattamente le grida manzoniane tu hai detto ieri proprio hai parlato proprio questo della peste in effetti noi stiamo rispondendo con i metodi della peste del 300 non è che la risposta è diversa il metodo con cui rispondiamo è il metodo medievale cioè la quarantena e l'isolamento anche perché alla fine sono gli unici metodi che funzionano davvero meri rossi dice siamo presi in giro dall'olanda che dice che la reazione dell'italia è stupida ed esagerata noi oggi sulla croce il quotidiano che vi invitiamo a leggere con grande attenzione nell'editorialino intitolato nominalismi abbiamo spiegato perché invece il metodo italiano va proprio rivendicato davanti agli olandesi ai tedeschi ai nord europei che sostanzialmente faranno morire i loro vecchi senza neanche ricoverarli noi intubbiamo anche i novantenni cerchiamo di vivere anche di far vivere anche i novantenni colpiti da covid 19 e lo facciamo perché la nostra cultura è salvare le vite e noi dobbiamo sbandierare questa nostra cultura nazionale questa nostra cultura sanitaria che deriva inevitabilmente da una cultura religiosa questo è l'elemento che dobbiamo rivendicare con orgoglio perché stiamo cercando di salvare anche gli anziani anche perché sono gli anziani gli over 80 i principali esposti i più esposti a questa malattia e dunque noi dobbiamo davvero da questo punto di vista rivendicare la nostra profonda cultura nazionale storica a questo punto sanitaria scientifica e religiosa che inevitabilmente li affonda il nostro la nostra radice avendo dato un avendo detto di guardare il Corriere della Sera perché oggi sono due pagine molto belle molto dolorose ma molto belle sui morti in lombardia i morti anziani che muoiono da soli davvero molto toccanti e non elogiamo spesso il giornalismo italiano quindi se lo facciamo vi dico veramente è un'antologia di Spoon River davvero toccante avendo chiesto di leggere ciò che scriviamo sulla croce in particolare l'editorialino intitolato nominalismi oggi c'è anche un bel editoriale firmato da Andrea Brenna leggete la croce www.lacrocepoligliano.it slash abbonarsi trattino ora in questi giorni di noia può accompagnarvi a qualche riflessione un pochino più sensata rispetto a quello che trovate sui media tradizionali pierpaolo miraglia scrive una cosa che io penso la politica tedesca purtroppo non ha perso il vizietto delle purghe degli indifesi è anch'io credo un retroterra della cultura luterana mentre la cultura cattolica è evidentemente un altro tipo di sviluppo infatti dalla cultura luterana progressivamente inevitabilmente si arriva al nazismo dalla cultura cattolica inevitabilmente quando anche si arriva alla dimensione totalitaria non si arriva mai alle versioni naziste o peggio ancora del comunismo internazionale che tanti danni ha fatto con 100 milioni di morti nell'ultimo secolo nel ventesimo secolo in questo senso la cultura cattolica mitigatrice moderatrice è sempre una cultura salvifica alessandro margiotta sottolinea giustamente che la geriatria cioè la cura degli anziani nata negli anni 50 è una disciplina fondamentale del nostro servizio sanitario nazionale il nostro servizio sanitario nazionale è nato negli anni 70 invece grazie ai governanti cattolici di questo paese ma noi non ci dimentichiamo che fondamentalmente stampa e vangelo non esiste se non si legge il vangelo giusto e oggi abbiamo da leggere il vangelo secondo luca con voce alta se no non ti sentono oggi il vangelo del giorno che è illuminante sempre illuminante guardate il vangelo di oggi come illumina i dati legati ai fatti che stiamo vivendo in quel tempo gesù disse ai farisei c'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dava all'auto i banchetti un povero di nome lazzaro stava alla sua porta coperto di piaghe bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad abramo morì anche il ricco e fu sepolto stando negli inferi tra i tormenti alzò gli occhi e vide da lontano abramo e lazzaro accanto a lui allora gridando disse padre abramo abbi pietà di me e manda lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua perché soffro terribilmente in questa fiamma ma abramo rispose figlio ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e lazzaro i suoi mali ma ora in questo in questo modo lui è consolato e tu invece sei mezzo ai tormenti per per di più tra noi e voi è stato fissato un grande abisso coloro che di qui vogliono passare da voi non posso non possono né di lì possono giungere fino a noi e quello replicò allora padre ti prego di mandare lazzaro a casa di mio padre perché ho cinque fratelli li ammonisca severamente perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento ma abramo rispose hanno musei profeti ascoltino loro e lui replicò no padre abramo ma se dai morti qualcuno andrà da loro si convertiranno abramo rispose se non ascoltano musei profeti non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti questa è la parola del signore di oggi è il vangelo di luca eh sedicesimo capitolo sono tredici versetti dal diciannove al trentuno ehm io li trovo meravigliosamente collocati dentro eh la nostra vicenda noi siamo avvertiti e davvero sembriamo visto come è bella tra l'altro anche stilisticamente questa pagina di vangelo il povero ha un nome si chiama lazzaro l'uomo ricco non ha nome perché rischiamo di essere ognuno di noi eh ci possiamo impersonificare tutti in quell'uomo ricco non perché siamo ricchi ma perché abbiamo forse quell'indifferenza durante la vita che può caratterizzarci e il vangelo circoscrive invece la vicenda dell'uomo povero attorno al suo nome a lazzaro a colui che poi alla fine rispetto alla moltitudine degli indifferenti viene salvato lui è proprio lui io trovo questa pagina estremamente fa venire i brividi in questa in questa giornata perché pare davvero un monito sta arrivando qualcosa che è un monito che ci avverte che ci dice attenzione a quello che sta accadendo è un monito che ha a che fare anche con un richiamo di dio evidentemente alle nostre consapevolezze ma la sconsolata osservazione finale se non ascoltano mosei profeti non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti pare essere dolorosamente vera noi cerchiamo di farci persuasi come si direbbe in una posciada e di capire che il meccanismo che ora dobbiamo attuare è di massima consapevolezza ai mali del nostro corpo possibili e ai mali della nostra anima ancora più possibili forse probabili e vogliamo essere individuati con il nome per essere salvati mario clara lazzaro vogliamo farci non indifferenti agli occhi di dio dobbiamo impiegare questo tempo elisabetta marracini scrive io ho tutto questo blocco totale non l'ho visto mio 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 marito lavora in banca continua andarci a lavorare come come nonna come si chiama nonna marina continua a lavorare alla posta vero c'è però gli danno delle ferie extra che ci devono stare meno impiegati meno impiegati ma le poste sono aperte le banche sono aperte quindi come al solito ogni giorno facciamo un passo verso questa lockdown però questo lockdown totale non lo facciamo facciamo un passettino finché finalmente si capirà che la proposta del popolo la famiglia del 22 di febbraio lockdown alla cinese non doveva essere effettivamente applicata so che è difficile so che abbiamo tutti i bambini a casa ripeto clara è a casa da sette giorni siamo da sette giorni in auto isolamento volontario che ci siamo inventati per esempio i corsi di pittura non sono corsi clara è proprio brava di suo ha fatto un bellissimo quadro vogliamo far vedere tutti i quadri facciamo vedere ragazzi qualcosa bisogna inventarsi e allora guardiamo i quadri primo quadro questa è la prima opera opera prima guardate il il pastello però nel pastello questo è un acquarello corone acrilico su tela acrilico su tela ammirare la bellezza dell'albero fatta fogliolina per fogliolina non è vero non è fatta fogliolina per fogliolina no non è fogliolina per fogliolina è una tecnica che vorrei somigliare a staccolanana vi ricordate all'ottavo nano c'era corrado guzzanti che provava a vendere i quadri farlocchi chiamandosi sta questo è un grande staccolanana ecco un grande staccolanana bellissimo con tutte le foglioline però abbiamo fatto non solo un paesaggio rupestre campestre ma anche un paesaggio più è più assolato più legato al clima australiano per omaggiare appunto nonna e livia che stanno lontani 10.000 km da casa e non possono neanche rientrare e con questo market veramente tutti quanti sei bravissima vedi bello che brava quella che brava questi sono uccelli e se non si è capito quelli sono uccelli corvi che portano il coronavirus no no uccelli buoni sono uccelli buoni sono uccelli buoni benissimo ragazzi io vi ringrazio molto per aver anche sopportato la fase telemarket diciamo così Gabriele Marconi guarda parla di impressionismo anti tatem che vuol dire una roba che insomma un talento precoce Jacopo Pioli dalla Cina dice negozi di telefonia sono aperti in quanto la comunicazione è considerata un bene primario è una follia ripeto Jacopo Pioli ci scrive dalla Cina questa roba lui la sta vivendo da due mesi perché sta in lockdown vero alla cinese da due mesi ci facciamo raccontare da Jacopo Pioli cosa significa lockdown perché in effetti la Cina oggi è riuscita a programmare il superamento del picco di virus ci ha messo due mesi ma l'ha fatto attraverso il lockdown alla cinese intanto Andrea Brenna arriva a sottolineare il tema dei decreti in fila che dimostra che hanno capito solo un poco la volta e ancora non hanno capito tutto sottolineo l'editoriale di Andrea Brenna oggi sul quotidiano la croce come dice Massimiliano Esposito noi il popolo della famiglia non siamo né profeti né veggenti siamo solo dei padri di famiglia quindi abbiamo il buon senso del padre di famiglia forse per questo al 22 febbraio avvertiamo su quel che dobbiamo fare Arion Diaz Vicario scrive la famiglia è indispensabile e fondamentale per la crescita umana e religiosa Ermanno Caccia ci informa che a Carpi gli edili lavorano alla faccia del coronavirus allora fatemi dire una cosa che se noi non facciamo il lockdown vero ma facciamo quello che Silvia Lodà chiama il lockdowninoinoino Margherita Ruffino informa che i suoi familiari a Pechino non escono neppure per fare la spesa gli esili saranno inevitabili allora oggi vi dico oggi sarà una giornata cruciale i morti saranno più di mille oggi troveremo la statistica che ci sono più di mille i morti per coronavirus non nella giornata ma complessivi io vi dico oggi che noi smetteremo di contare i morti vedrete prima o poi molto presto perché questo virus poiché il nostro popolo è un popolo di vecchi più di 3 milioni e 970 mila persone per la precisione 3 milioni 977 mila sono gli over 80 in questo paese avendo questa quindi categoria anagrafica beh sopra gli 80 anni lo sono 3 milioni 977 mila sopra gli 80 anni sono senza dubbio degli anziani i bambini sono molti di meno purtroppo perché voi nascete sempre meno perché è stata aiutata meno la famiglia a fare figli in questi in questi anni mentre ai tempi la famiglia era centrale nella vita dello stato è vero si avevano anche 10 figli allora io vi dico questo coronavirus sarà alla fine inevitabilmente come dice sabrina bosu un'eutanasia a buon mercato vedrete morire centomila persone io lo dico non ve lo metteranno nella contabilità ma basterà studiare i dati istat ricordate che il dato istat medio di decessi nell'anno 2017 e 2019 è 646.000 646.000 647.000 morti nell'anno andrete a vedere quanti sono i morti nel 2020 e scoprirete che saranno intorno agli 800.000 ve lo dico prima non vi faranno la statistica fra un po smetteranno di contarli ma noi pagheremo un prezzo tra i 100 e i 150.000 morti a questo virus prevalentemente pagato perché l'età media dei decessi è 81 anni noi pagheremo un prezzo enorme in questo senso e lo verificheremo solo andando a leggere le tabelle istat alla fine del 2020 quindi i mille morti che registreremo oggi per coronavirus ripeto oggi sarà il giorno in cui travalicheremo abbondantemente la soglia dei mille morti sono solo un centesimo di quello che avverrà in questi mesi ora noi dobbiamo inevitabilmente costruire una consapevolezza intorno a questo e anche rivendicare la nostra modalità di salvaguardia della vita degli anziani che sta rendendo onore a medici paramedici impiegati degli ospedali che sono la vera frontiera della lotta al coronavirus a cui va il nostro omaggio il nostro grato omaggio perché in lombardia in veneto in emilia romagna in piemonte in particolare ma presto in tutta italia questa frontiera di donne di uomini coraggiosi sarà la frontiera che dimostrerà tutto il suo valore lo ripeto intubando e provando a salvare anche gli ultranovantenni la cosa fondamentale in questo momento è che si salvaguardi la vita umana in quanto tale è un portato della nostra cultura nazionale storica scientifica e anche religiosa vuoi salutare sta diventando noioso vuoi stare qui non è non è noioso e questo già è qualcosa non ho nient'altro da fare è noioso questa è la parte noiosa di stampa evangelo quando devo cominciare a dirvi qualcosa che ha a che fare coi numeri perché inevitabilmente voi sapete io ho questa mania questa ossessione di misurare le cose che accadono è per questo che studiando i numeri cinesi prima i primi numeri italiani ho potuto dire il 22 febbraio attenzione a quel che sta per accadere e attenzione a quel che accadrà di ancora più pesante ovviamente pagando anche un prezzo inevitabile alla dimensione economica da questo punto di vista l'europa sta facendo pochissimo non sta aiutando non sta facendo quello che ci attendevamo che facesse allargherà i cordoni della borsa ma poi i debiti chi li paga dice bene andrea brenna nel suo editoriale sulla croce di oggi ci ritroveremo comunque sul gruppone non avremo aiuto reale da parte dell'europa dobbiamo costruire la consapevolezza del tipo di battaglia che dobbiamo affrontare dice bene don natalino bonazza l'europa ha fallito silvia lodà scrive mamma mia mi hai fatto venire i brividi ma è tutto assolutamente vero sapete che quello che dico raramente non accade molto raramente non accade e se vi do questi numeri è vero appunto se do questi numeri è ciò che purtroppo accadrà dobbiamo allora difenderci nella maniera più adatta sicuramente la maniera più adatta in questo momento è interrompere le relazioni la salvaguardia è dentro la unità familiare quindi il rapporto familiare è la famiglia che deve reggere in questo momento una cosa importante scusa amore che devo dire ricordandoci che nessuno deve restare solo quindi esistono persone che non per loro colpo a condizione hanno una dimensione di necessità d'aiuto noi abbiamo fatto l'hashtag nessuno resti solo ed è riferito in particolare ai disabili non autosufficienti senza relazioni familiari e agli anziani nelle stesse condizioni abbiamo chiesto ai comuni e ripetiamo l'appello in questo momento a fare lo screening di queste situazioni gli 8 mila comuni italiani devono fare azione di screening per le situazioni dei disabili non autosufficienti e gli anziani nella stessa condizione privi di relazioni familiari privi anche di relazioni familiari perché il lockdown attuale all'italiana sta impedendo i trasferimenti quindi ci sono figli che sono lontani dai genitori e i genitori dunque si trovano da soli anche se magari hanno relazioni personali ma a 800 chilometri di distanza dunque sta agli enti locali in questo momento predisporre questo tipo di piano di cui non ho mai sentito parlare in televisione dal presidente del consiglio dei ministri a cui piace tanto fare i teasing alle 8 di sera dicendo alle 10 di sera vi dirò delle cose importanti roba da pazzi fare cose così ma comunque ognuno ha il suo stile e questo presidente del consiglio in tutta chiarezza quando questa storia sarà finita non lo ricorderemo certo come una leadership churchilliana diciamo così noi dobbiamo affrontare con nettezza assolutamente con nettezza la questione lombarda ancora non siamo arrivati e non a caso il governatore fontana ha chiesto il vero lockdown almeno per la regione lombardia vi ricordo che quella pagina di corriere della sera che ho citato in apertura si riferisce proprio ai morti agli anziani che muoiono da soli in lombardia con tante storie e anche lì con dei numeri tre morti su quattro sono lombardi avvengono in lombardia cristiana di stefano giustamente scrive conte neanche una parola per le persone nella mia condizione se ne frega totalmente se non era per i miei amici volontari cristiana di stefano una disabile grave che vive sola a cui abbiamo dato lo spazio d'onore l'editoriale del quotidiano la croce proprio per lanciare l'allarme non solo per se stessa ma per tutte le persone nella sua condizione ripeto disabili gravi non autosufficienti privi di relazioni familiari e anche anziani nelle stesse condizioni magari per via del divieto di spostamento che in questo momento è in atto stiamo parlando di centinaia di migliaia di persone e la proposta ancora una volta saggia spero e di buon senso del popolo e della famiglia è ogni comune faccia lo screening hashtag visto bisogna far per forza si hashtag nessuno resti solo nessuno resti solo è la nostra prima esigenza no cla te prego se no qua va bene tutto ma non tocchiamo l'inquadratura anche perché l'inquadratura ha un senso vedete che dietro di noi siamo protetti vero dall'angelo e dalla croce quindi va bene ogni tanto lo posso anche coprire quindi mi raccomando da questo punto di vista il nostro nessuno resti solo è un appello forte che come popolo e la famiglia facciamo e dobbiamo far rimbalzare ovunque sabrina bosu dice se ci fosse stato il popolo la famiglia al governo avremmo salvato persone ed economia esattamente avremmo proprio fatto questo grazie a catarina de vitt che rilancia l'hashtag nessuno resti solo facciamo qualcosa carlo schieppati dice quando toccherà a me voglio poter chiamare un prete a confessarmi sarà possibile no no neanche i familiari possono entrare nelle terapie intensive quindi quando purtroppo ci si ritrova in quelle condizioni per questo vi dico leggete queste due pagine del Corriere della Sera di oggi purtroppo si muore soli si muore senza neanche i familiari ed è dolorosissimo vi dico sono due pagine veramente dolorose da leggere ma che ci fanno capire pienamente in questi primi mille morti in che condizioni sono morti e ci fa pensare ai centomila morti che verranno perché saranno centomila in che condizioni morenanno però poiché sono collocati in quella fascia di popolazione degli ultrattantenni di 3.977.000 che hanno più di 80 anni penseremo che è l'evoluzione naturale delle cose no non è l'evoluzione naturale delle cose è purtroppo dovuta tutta questa condizione alla scarsità di mezzi e le difficoltà oggettive che sono state scatenate da una scarsa programmazione e una scarsa comprensione di quel che stava avvenendo se si fossero compresi i numeri il 22 febbraio si fosse dato retta al popolo della famiglia il 22 febbraio facendo il lockdown che stiamo progressivamente facendo con un decreto del presidente del consiglio alla volta fino quando arriveremo al coprifuoco che inevitabilmente arriverà tra tre o quattro giorni avremmo salvato questo paese magari con qualcuno che protestava dicendo che eravamo esagerati perché questo sarebbe inevitabilmente accaduto allora maria di giuro ci speriamo di entrare presto al governo ci sognano le elezioni per entrare al governo quello che possiamo fare in questo momento è lanciare l'allarme sui numeri lavorare per il sostegno ripeto ai disabili non autosufficienti senza relazioni familiari agli anziani in queste stesse condizioni di bisogno lavorare noi stessi no nelle condizioni di difficoltà che abbiamo all'interno delle famiglie per far sì che questo tempo scorra e sia valorizzato ecco io quando vedo un bel quadro di clara dico vedi magari ci ho scoperto un talento grazie al coronavirus e magari ho riletto quel libro che che mi mancava ho visto quella serie televisiva che forse tutto sommato fa bene al cuore e ragazzi bisogna inevitabilmente sempre vedere come il male possa in qualche modo concorrere al bene io non amo quelle lenzuolate arcobaleno in cui c'è scritto andrà tutto bene non so come andrà andrà come dio vorrà però facciamo tutto quello che possiamo affinché il monito che ci arriva come abbiamo letto nel vangelo di oggi sia in qualche modo efficace per le nostre coscienze ci faccia uscire dall'indistinto degli uomini indifferenti e ci faccia diventare lazzaro che poi è colui che effettivamente risorge ci faccia diventare lazzaro dimmi amore mio fai una domanda intelligente ti prego non stupida troviamo un po intelligente non ti viene più ti ho paralizzato con questa cosa marco russo dice promuoviamo la scuola a casa via internet tu stai facendo un po di scuola via internet è via registro elettronico vero spiega come funziona per un bambino che non va a scuola in questi giorni che succede la mamma ti dice clara ci sono i compiti sul registro elettronico perché perché la suora l'ha messi sul registro elettronico giusto oppure se tipo dobbiamo fare un dettato la suora ci manda il video il video e fate il dettato vero e poi maestra silvia ci lascia un sacco di compiti di geografia e ti tocca studiare tanto e a te piace studiare tanto non tanto però poi c'è papà che diventa burbero vero sì e dice bisogna studiare adesso sì si mette qui mi guarda e diventa burbero vero cattivo è cattivo tanto cattivo che ti fa studiare per forza vero sì ebbene sì signori c'è una versante che non conoscete del papà severo molto severo e tant'è che noi volevamo chiamare il figlio maschio io lo volevo chiamare era maschio lo volevo chiamare severo vedete conto che schifo di nome è bellissimo è un nome di un imperatore romano severo ecco vedi jacopo pioli dalla cina ti scrive brava clara anche isacco che è suo figlio è un mese che fa scuola come te io mio fratello lo volevo chiamare anche isacco ecco isacco andava bene severo no invece no severo non va bene è vabbè e insomma vedi silvia lotà dice che però sono buono buono ma severo non sono buono io un po sono severo va bene sono un papà severo che devo fare non ti potevi chiamarti severo io dovevo chiamarmi severo giusto è così così nessuno nessun altro si chiamava severo e tutti felici benissimo allora ricordatevi che poi c'è questo elemento da sostenere il lockdown vuol dire riuscire a noi siamo a sette giorni e sette giorni di auto isolamento volontario sette giorni di auto isolamento volontario vuol dire convivere tutti con gli inevitabili nervosismi con ciò che produce la noia si può fare cerchiamo tutti di essere bravi è vero anna sciappa ha detto hai ragione clara non si può sentire severo e anche silvia lotà è d'accordo sono d'accordo con clara e allora questo però è l'elemento minimale di questa storia no cerchiamo di capire che è un elemento minimale e capendo che è un elemento minimale lo sopportiamo meglio lo sopportiamo meglio se cogliamo la tragedia che invece è il coronavirus ciò che sta avvenendo in particolare per i fratelli lombardi lo ripeto la lombardia sta soffrendo in una situazione davvero enorme bergamo brescia cremona crema adesso anche milano a mille casi quindi è una situazione davvero davvero difficile cerchiamo tutti di comprendere però il valore di questo approccio italiano alla malattia perché è un elemento che può diventare estremamente significativo anche nelle battaglie che dovremo fare dopo la vicenda coronavirus noi intubbiamo cerchiamo di salvare anche i novantenni altrove neanche li ricoverano muoiono e non vengono neanche registrati come morte per coronavirus ricordiamo questa distanza perché è una distanza di umanità al di là dei nominalismi trovate l'editorialino della croce che spiega questa cosa oggi in prima pagina sostenete il quotidiano la croce leggetelo tutti i giorni www.lagrocequotidiano.it slash abbonarsi trattino ora lì ci si può anche iscrivere al popolo della famiglia tutti quelli che leggono il quotidiano la croce credo che quotidianamente trovano idee e anche sviluppi importanti rispetto che su altri media non si trovano quindi dimmi amore mio ma potrebbe anche capitare che che un signore anziano malato di coronavirus muore per vecchiaia infatti qualcuno nelle statistiche dice non è morto per il coronavirus è morto con il coronavirus però insomma questo dettaglio non è un elemento secondario ma molto spesso una polmonite rischia di essere letale per degli anziani ecco la tosse che arriva a papà e può essere anche solo polmonite non coronavirus potrebbe essere anche solo polmonite non coronavirus certamente Antonio Bertolini dice caro Mario mia cognata dovrebbe partorire il 9 aprile come fa che fa va e partorisce inevitabilmente certo capisco ovviamente il timore inevitabilmente il timore si chiamano morti indirette vedi ti risponde Jeffrey Gabbana Bezos salutiamo anche Claudia Scimain Bregnoli che saluta sia me che te Andrea Brenna dice stupenda la scuola quando si inserisce in modo non esagerato ed invadente ma collaborativo con la famiglia Cristina Zaccanti ancora una volta testimoniamo la nostra storia essere seguaci di Cristo ci rende uomini a servizio ricordo dunque le cose di cui abbiamo parlato oggi e vorrei porre una sottolineatura sulla lettura del Corriere della Sera stiamo facendo anche una rassegna stampa oggi è una bella rassegna stampa anche grazie alle due pagine del Corriere della Sera che vi ho indicato leggete il Corriere della Croce in particolare l'editoriale di Andrea Brenna c'è un bellissimo articolo anche di Nicola Di Matteo che ricorda i quattro anni del popolo della famiglia c'è un bel editorialino ripeto che credo sia particolarmente rilevante se potete fate un like alla diretta se ritenete che vi sia piaciuta like alla diretta ma la tua mano è tre volte la tua esattamente oltre al like fate la condivisione della diretta sul vostro profilo e prendete il link della diretta e mandatelo per esempio in chat operativa bdf mandatelo a tutti i vostri amici a tutti i vostri amici nelle chat whatsapp nelle chat di messenger perché perché alcune cose che abbiamo detto credo siano importanti innanzitutto l'hashtag nessuno resti solo per i disabili non supportati da familiari e per gli anziani nelle stesse condizioni la questione purtroppo del dpcm decreto presidente del consiglio dei ministri che ogni giorno innova il lockdown cercando di farlo diventare più simile a un lockdown effettivo mentre noi dal 22 febbraio veniamo il lockdown alla cinese quello che viene testimoniato da jacopo pioli qui durante le dirette perché lui si collega con la cina dalla cina padre madre cinque figli e gestisce questo dalla cina quindi il lockdown alla cinese si può fare oggi la grande notizia che ho dato in diretta è che la cina ha proclamato il superamento del picco e la questione cruciale del numero di morti lo ripeto saranno più di centomila alla fine dunque prepariamoci alla condizione di grande difficoltà per i nostri over 80 sono 3 milioni 977 mila gli ultraottantenni italiani ma allo stesso tempo difendiamo la modalità italiana di curare anche il novantenne intubare anche il novantenne ricoverare anche il novantenne perché con questo lavoro noi testimoniamo la nostra radice la nostra radice di cultura nazionale scientifica medica storica e ovviamente anche la nostra radice religiosa che questo sia siano le ragioni per cui è stato importante fare questa diretta anche oggi avete visto anche i capolavori di una giovane artista in erba quindi insomma non è stata una diretta da poco massimiliano esposito mi chiede le pagine del coriore sono quelle che parlano delle vittime senza l'ultimo saluto esattamente sono molto dolorose da leggere sono due pagine perché i vecchi muoiono lì senza poter salutare neanche i figli e familiari perché non si possono avvicinare per via dell'infezione sono molto dolorose ma anche molto ben scritte fanno capire proprio bene di cosa stiamo parlando io vi ringrazio davvero per l'attenzione perché perché poi fai gli incubi la notte infatti cerchiamo come il film sul nazismo che mi ha fatto avere gli incubi per una settimana esatto perché il male vedete tocca l'innocenza e noi dobbiamo salvaguardare invece l'innocenza da maria di norfi una buona giornata a tutti salvaguardiamo i nostri fratelli più deboli salvaguardiamo i sofferenti stiamo vicini agli anziani e ai disabili stiamo vicini alle nostre famiglie in questo tempo così difficile ci ritroviamo domani 9 qui dalle 9 e 15 del mattino minuto più minuto meno con stampa e vangelo ricordiamoci sempre tutti di essere lazzaro non di essere nella marmaglia indifferente che non ha neanche un nome agli occhi di dio lazzaro può risorgere e sarà ristorato del male che soffre nella vita in quella che noi crediamo essere la vita eterna da maria di norfi e da clara di norfi una buona giornata a tutti ci troviamo domani con stampa e vangelo ricordatevi fare un like alla diretta se vi è piaciuta condividerla sul vostro profilo e far avere il link ai vostri amici jacopo pioli dalla cina ci scrive un bel viva lazzaro che noi sottolineiamo con tutto il cuore certo e poi dire una cosa a tutti quelli che c'è che hanno il cuore fragile che che appena vedete qualcosa di triste piangete non guardate mai la stella di andrea e tati si trova su google non guardatelo mai che è un film sulla è per bambini però fa piangere è con quello che ha avuto gli incubi perciò non dovrebbe neanche essere per bambini è un film per bambini sullo strage nazista sull'olocausto quindi il male tocca l'innocenza preserviamo l'innocenza delle persone in particolare dei nostri figli preserviamo il mondo dal male anche grazie alla forza della nostra fede un abbraccio a tutti voi stampa e vangelo torna domani dalle 9 e 15 minuto più minuto meno